NPR Matematica ci propone un esercizio di prima media in cui vengono assegnate due rette parallele, assegniamole, una e due, intersecate da una trasversale, questa qui, e ci viene detto che la coppia di angoli coniugati esterni o le due coppie di angoli coniugati esterni che si vengono a creare sono rappresentate in modo tale che un angolo di questa coppia è il triplo dell'altro. Intanto andiamo a vedere quali sono gli angoli coniugati esterni, quindi riprendiamo sempre il nostro foglio che riassume le varie coppie di angoli che si vengono a formare quando abbiamo due rette parallele intersecate da una trasversale e vediamo che le coppie di angoli coniugati esterni rispetto a questa rappresentazione grafica sono la coppia 1,7 e la coppia 2,8. Sono esterni come vediamo perché si trovano in queste porzioni di piano esterne rispetto a queste due rette parallele e poi li vediamo sono coniugati perché si trovano o tutti e due alla sinistra della trasversale o tutti e due alla destra della trasversale e la cosa interessante di questa coppia di angoli è che sono supplementari, ossia la loro somma è pari a 180 gradi. Quindi che sia questa la coppia o che sia questa formeranno comunque sommati fra loro un angolo complessivo di 180 gradi. Quindi prendiamo in considerazione una delle due coppie di angoli coniugati esterni, li chiamiamo angolo alfa e angolo beta e adesso l'esercizio ci chiede di determinarli sapendo che uno è il triplo dell'altro. Che cosa vuol dire questo? Se questo angolo è più piccolo di questo, vorrà dire che alfa sarà tre volte beta. Quindi abbiamo che angolo alfa è tre volte beta. Probabilmente la rappresentazione grafica qui fatta non rispecchia queste proporzioni, però l'importante è scrivere l'espressione matematica corretta. Alfa, che è l'angolo più grande tra questi due, questo è un angolo acuto e questo è un angolo ottuso e quindi alfa è sicuramente più grande di beta e per come ci viene assegnato l'esercizio sappiamo che alfa è tre volte beta. Ma sappiamo una cosa in più, si tratta di due angoli coniugati esterni e sappiamo che questa coppia di angoli è una coppia di angoli supplementari, ossia formano sommati tra loro un angolo piatto, cioè un angolo di 180 gradi. Con questi dati noi dobbiamo risolvere l'esercizio. Allora abbiamo diversi modi. Quello che viene richiesto dalle scuole medie prevede un semplice ragionamento in cui si parte dall'angolo beta, eccolo qui rappresentato, probabilmente lo devo fare un po' più grande e si osserva che se alfa è tre volte beta vorrà dire che è un angolo molto più grande che è composto da tre volte beta. Questo è un primo beta, questo è un secondo beta e questo è un terzo beta. Complessivamente tutto questo è il nostro angolo alfa. La cosa interessante di questi due angoli è che se noi disegniamo un angolo piatto, questo angolo più questo devono formare un angolo piatto. Quindi cerchiamo di essere più precisi perché qui sicuramente il disegno non è fatto in proporzioni. Allora abbiamo che se questo è il nostro angolo beta, eccolo qui, il nostro angolo alfa deve essere tutto questo angolo qui. Va bene? Perché beta più alfa deve fare 180 gradi. Ma deve succedere anche un'altra cosa, che se prendiamo alfa e lo dividiamo in tre parti, queste qui, uguali. Queste tre parti devono essere pari ciascuna di queste a beta. Beta e beta. Va bene? Quindi una, due, tre, sono tre volte beta, compongono l'angolo alfa. Questo è il nostro angolo beta e beta più alfa è uguale a 180 gradi. Se realizziamo questa rappresentazione grafica tutto diventa molto più semplice. Perché? Perché per calcolare l'angolo beta ora è molto semplice. Se tutto questo è un angolo di 180 gradi ed è diviso in quattro parti uguali, tutte di valore beta, allora vorrà dire che beta è uguale a 180 gradi diviso 4. Uno, due, tre, quattro sono tutti angoli di valore beta. Vediamo adesso quanto vale 180 diviso 4. Potete prendere la calcolatrice oppure potete osservare che un angolo piatto diviso in due fa due angoli retti da 90 gradi, diviso due ancora, perché dobbiamo dividere per 4, fa un angolo di 45 gradi. Quindi qui beta viene fuori come angolo di 45 gradi. Ora è molto semplice calcolare anche alfa perché alfa è 3 volte beta, quindi è composto da questo, questo e questo angolo. Ciascuno di questi vale 45, quindi alfa è uguale a 3 per 45 e questo fa 135 gradi. In questo modo abbiamo risolto l'esercizio così come va risolto le scuole medie. In realtà, o meglio in prima media, in realtà se poi lo stesso esercizio viene proposto ad esempio in terza media, ci si può cimentare con la risoluzione mediante un'equazione di primo grado. In realtà questo è un sistema di due equazioni di primo grado e quello che si può osservare, quindi si può mettere una parentesi graffa per indicare che è un sistema di equazioni di primo grado, sono due equazioni in due incognite, alfa e beta. Ad ogni modo quello che si può fare è che sapendo alfa che è pari a 3 per beta lo vado a sostituire qui. Quindi anziché scrivere alfa più beta uguale a 180 gradi, scriverò che alfa è pari a 3 per beta più beta uguale a 180 gradi. Ora 3 beta più 1 beta fa 4 beta, quindi abbiamo 4 beta uguale a 180 gradi. Per risolvere questa, che è una semplice equazione di primo grado, facciamo beta uguale a 180 gradi diviso 4. Dividiamo entrambi i membri per 4. Bene, notiamo che questa formula, altro non è quella che avevamo calcolato con questo ragionamento grafico. Una volta nota beta, lo andiamo a sostituire in questa equazione e quindi avremo che alfa è uguale a 3 per beta, ossia a 3 per 45 gradi, dal momento che questo vale 45 gradi. Questa espressione, altro non è quella che avevamo utilizzato analizzando la rappresentazione grafica qui riportata in basso a sinistra in questo foglio. Bene, con questo abbiamo risolto l'esercizio utilizzando due metodi, uno più geometrico, grafico e uno più matematico, quello basato su questo semplice sistema di due equazioni di primo grado, entrambi validi ed entrambi hanno portato allo stesso risultato. Bene, con questo abbiamo chiuso questo esercizio, completato con successo. Grazie e alla prossima!